di nuovo insieme la trasmissione conto su di te in collaborazione con ubi banca oggi siamo collegati con cristian fumagalli direttore della macro area toscana umbria lazio benvenuto grazie grazie mille allora è tempo quest'oggi di commentare i risultati consolidati al 31 marzo 2020 del gruppo ubi banca allora direi di partire subito con l'intervista victor massia consigliere delegato del gruppo e poi ci addentriamo nei dati che più ci riguardano quelli legati ai nostri territori vediamo io devo dire che dobbiamo essere particolarmente contenti di presentare dei risultati in crescita con fronte all'anno precedente considerato da dove siamo partiti ubi banca chiude il primo trimestre 2020 con un utile netto di 96,3 milioni di euro in crescita del 12 e 1 per cento rispetto al 2019 un trimestre ovviamente impattato da tutto quello che sappiamo e riuscire a consegnare proventi sostanzialmente in linea con l'anno precedente nonostante un mese di marzo in cui si è fermato tutto costi in discesa nonostante l'assorbimento dell'impatto del contratto collettivo nazionale del lavoro e una qualità del credito che si conferma estremamente buona nonostante che noi si siano fatti degli accantonamenti ulteriori prudenziali sulle componenti di credito più debole cioè quelli che chiamiamo gli allacchi to pay che tentiamo evidentemente ancora di riportare in vita e di portare a performing ma che comunque abbiamo ritenuto di coprire ulteriormente in maniera specifica su quei settori più impattati dal covid faccio un esempio ovvio a tutti il turismo ecco portare a casa un risultato complessivo così importante ed in crescita insisto sull'anno precedente nonostante qualche accantonamento in più beh è una dimostrazione notevole di capacità di gestire anche un momento così particolarmente difficile come quello che abbiamo attraversato. Quanto alla solidità patrimoniale il coefficiente CHET1 è salito del 12,86% più 57 punti base da fine 2019. In un contesto in cui anche se volessimo mettere da parte perché ovviamente noi cercheremo se il BCE ci darà la possibilità di farlo di compensare comunque gli azionisti in autunno anche se volessimo detrarre i 26 basis point dei dividendi avremmo comunque un CHET1 superiore al 12,50% abbiamo abbiamo un liquidity coverage ratio che è sopra i 180, abbiamo un stable funding ratio che è sopra tutti i requisiti della vigilanza, abbiamo un MRL che è abbondantemente sopra i requisiti della vigilanza, abbiamo un total capital ratio che dopo l'81 che per fortuna e devo dire con una tempestività che si è rivelata particolarmente importante, l'81 che abbiamo emesso a gennaio ci porta il total capital ratio a livelli molto elevati, tutto questo insieme di cose dice che UbiBanca in sintesi estrema è una banca che nonostante la crisi e nonostante una crisi nei suoi territori è ancora più forte di prima. Per l'emergenza pandemia dal primo aprile UbiBanca ha varato il piano Rilancio Italia Siamo il 50% di tutti i crediti erogati a livello del sistema Italia fino a 25 mila Euro, una cifra enorme in termini di quota, considerata la nostra quota normale di mercato è attorno al 6%, stiamo processando oltre 2 miliardi di crediti 662 per quelle aziende che hanno diritto alla garanzia fino a 800 mila Euro, ticket medio guarda caso è di 700 mila Euro, oltre 110 mila moratorie per circa 17 miliardi se considerato che il numero delle moratorie nel paese è attorno a 1 milione 100, stiamo dicendo che una moratoria su 10 e oltre è fatta da Ubi, di nuovo più che proporzionato alle quote di mercato normali, una banca che ha saputo reagire molto più velocemente degli altri. E di nuovo torna alla capacità di gestione del credito insieme alla tecnologia, il 50% dei crediti fino a 25 mila Euro siamo riusciti a farlo, questa quota sproporzionata, perché avevamo la tecnologia e abbiamo trovato una soluzione per interagire in maniera massiva con il Medio Credito Centrale a una velocità che gli altri non hanno sopporto avere. Dottor Fumagagli, abbiamo sentito il quadro generale, entriamo nel dettaglio delle nostre zone, delle zone del centro Italia, che cosa si può dire? Le sottolineo magari qualche dato e soprattutto l'intervento che abbiamo posto in essere dal primo avvio della fase emergenziale. Come ha detto il nostro amministratore delegato, la principale richiesta del Paese è stata quella di sospendere il pagamento delle rate, dei finanziamenti in essere e di avere un apporto di nuova liquidità. Questo programma è stato denominato Rilancio Italia ed è un insieme di misure che mira a scatenare sul territorio un volume di liquidità di 10 miliardi di Euro. Vi offro qualche dato con qualche focus in particolare sul territorio aretino. Per quanto riguarda la macroarea Lazio, Toscana e Umbria, che io sovraintendo, fino alla data odierna abbiamo accontentato 14 mila tra famiglie e imprese che hanno richiesto moratoria delle proprie posizioni. Il territorio di Arezzo, il numero, è attorno alle 1.400-1.500. Sono state delle attivazioni istantanee perché, come ha richiesto il nostro amministratore delegato, è legato a semplice richiesta iscritta, immediatamente il debito veniva sostanzialmente congelato. Abbiamo poi attivato una misura a favore delle famiglie che, ahimè, sono state colpite dalla cassa integrazione, di anticipo della cassa integrazione. Sulla mia macroarea, sul territorio, ne abbiamo accolto circa 1.400 sul territorio di Arezzo. Sono circa un centinaio, devo dire una misura inferiore rispetto alle nostre attese iniziali, anche se probabilmente destinata ad incrementarsi, ma abbiamo visto che numerose aziende del territorio, Arezzo compreso, hanno provveduto loro stesse direttamente ad anticipare questi soldi provenienti dall'Inps ai loro dipendenti ed è stato un comportamento molto responsabile, molto etico. Abbiamo poi immediatamente scatenato una forza di fuoco che è molto osservata sia dai media, sia dal Labi e sia dai nostri clienti che sono stati i prestiti di taglio non superiore ai 25.000 euro. Sono state le manovre di pronta attivazione per i piccoli esercizi commerciali, per le libere professioni, per le micro imprese. Alla data di oggi UVBanca si vanta il fatto di aver erogato circa il 50% di tutto quello che è stato erogato dal sistema bancario nazionale. Per quanto riguarda la mia macro area abbiamo circa 8.000 richieste, giornalmente accogliamo 400-500 nuove richieste, la metà sono già state processate per il territorio di Arezzo, le richieste sono circa 1.500, anche in questo caso la metà sono già state processate. E poi arriviamo forse alla grande esigenza del sistema imprese che sono finanziamenti ben più abbondanti rispetto ai 25.000 euro, anche come è evidenziato la trimestrale, noi partivamo da una condizione di relativa forza. Io ho comunicato stamattina che la mia macro area o sul mio territorio abbiamo provveduto ad erogare più di 500 milioni di euro nel trimestre, una quantità incredibile. Nel territorio di Arezzo in particolare faccio un semplice confronto, se l'anno scorso nella prima parte dell'anno abbiamo erogato alle imprese 100, nella prima parte dell'anno del 2020 abbiamo erogato tre volte tanto e abbiamo di fronte a noi probabilmente un magazzino complessivo di pratiche di finanziamento al sistema imprese in valutazione che è il doppio di quanto abbiamo già fatto dall'inizio dell'anno. Devo dire che nonostante la crisi e la fase emergenziale alle quali tutti noi ci stiamo adattando e stiamo adottando misure di sostegno questi numeri evidenziano che la banca nonostante parte di essa abbia origini profonde nel tessuto bergamasco e bresciano molto colpito dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico la banca si mostra capace ad adattarsi con velocità a quelle che sono le esigenze immediate. Da ultimo se mi permette le posso dire che anche nei confronti del distretto Orafo abbiamo più volte colloquiato con i vertici delle associazioni di categoria per far rientrare anche le aziende della distrettualità distrettualità così importante all'interno del programma rilancio Italia con tutte le misure di favore che abbiamo previsto. Ecco a proposito appunto del rilancio Italia la banca è riuscita subito con immediatezza no anche ben prima di quelli che sono stati poi i provvedimenti del governo a dare subito una risposta ecco questo credo che sia da sottolineare. Grazie che l'ha fatto lei mi scordavo in effetti il rilancio Italia nasce il primo di aprile come tutti sappiamo il decreto liquidità nasce il nove di aprile tutte le comunicazioni che il nostro amministratore delegato ha fornito all'esterno sono le stesse comunicazioni che ha rivolto all'interno del nostro top management che è quello che la velocità era un paradigma necessario per risolvere una parte della crisi e dovevamo responsabilmente nei confronti del territorio agire con la massima velocità possibile. Oggi devo dire io stesso misuro i miei collaboratori non solo sulla quantità ma anche sulla velocità di trasmissione perché riteniamo che un giorno in più possa essere un giorno utile a risolverle eh con eh maggiore efficacia i problemi che il paese sia lato famiglie sia lato imprese sta riscontrando. Sui prestiti eh garantiti anche quelli fino a venticinque mila euro sappiamo che insomma nei primi giorni specialmente c'era stato un po' di di caos piccolo per le comunicazioni eh da fare ovviamente di rito ecco adesso la la procedura si è standardizzata un po'. Sì eh oggi il processo è ben fatto per quanto riguarda UbiBank e lo dimostra la velocità con la quale stiamo andando eh abbiamo vissuto non solo nell'ambito di questi prestiti ma in tutto il complesso dell'innovazione del decreto abbiamo vissuto un momento un po' di di difficoltà nell'adattamento perché il DPCM è intervenuto con urgenza dando dei concetti e delle innovazioni che però dovevano calare anche eh dal punto di vista degli emittenti delle garanzie quindi sia il fondo centrale sia a Sace. C'è stata successivamente all'emanazione del decreto tutta una serie di giurisprudenza che è nata che ci ha permesso oggi di attivare su quella forma eh un processo fluido. Non è così per tutte le forme eh stiamo dialogando a livello AB con i garanti, gli emittenti delle garanzie per eh implementare tutte quelle innovazioni richieste eh questo può non corrispondere alla velocità di trasmissione della liquidità che il legislatore aveva intenzione di adottare ma neanche in funzione delle esigenze delle imprese e allora nel frattempo stiamo ricorrendo a un corpo sostenuto di prefinanziamenti cioè alle aziende che richiedono centomila euro per le necessità di traghettamento in questa posizione difficile anche in assenza della garanzia che arriverà probabilmente un po' più là siamo disponibili oggi a prefinanziare o in tutto in parte quanto 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 richiesto. Infine parliamo delle delle filiali, l'operatività che sta riprendendo anche quella pomeridiana eh quindi si sta tornando se non alla normalità quantomeno insomma ci si sta avviando. Mi permetta di ringraziare in antitutto i clienti perché nell'ultimo mese per disposizioni di legge tese a tutelare la sicurezza di chiunque abbiamo adottato diversi moduli di gioco all'interno delle delle filiali e a partire da lunedì 11 maggio siamo quasi in un ambiente normalizzato non ancora di piena normalità ma molto vicino e l'orario di filiali su tutto il territorio si estenderà anche il pomeriggio. ehm un invito che però faccio ai clienti in il vantaggio di avere il pomeriggio è anche quello di diluire la presenza in filiale e rispettare delle regole di buon senso di distanziamento e allora l'invito che faccio alla clientela è quella sempre di prendere appuntamento alle all'interno delle filiali per essere accolti preparati e per essere accolti nello spazio giusto senza necessità di di attesa. Mi permetta anche di ringraziare i i colleghi perché eh da subito sin dal momento del blocco operativo non hanno mai fatto mancare il loro supporto all'interno delle filiali e non era banale non era banale c'è stato un periodo che era una fase complicata della gestione sanitaria e che invece si sono tutti adeguati e prontamente adattati al nuovo ruolo di 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 presenza e devo dire che guardando i numeri che prima le esprimevo non solo hanno garantito la sicurezza ma hanno fatto anche il bene della della clientela con le loro necessità e le loro richieste. Infine una riflessione la possiamo fare su come questa emergenza eh cambierà anche il rapporto magari lo migliorherà anche il rapporto con eh la banca. Sì ci sono alcune cose che probabilmente questa esperienza ci ha attivato molto rapidamente ci porteremo a casa anche nel prossimo nel prossimo futuro. Eh innanzitutto un maggior ricorso alla dotazione tecnologica eh stiamo eh lavorando e stiamo consulenziando con i nostri clienti di trasportare una parte dell'operatività semplice che sono abituati ad eseguire nell'ambiente di filiale nel mondo della tecnologia senza violentare però questo traghettamento su quelle generazioni che evidentemente sono più in difficoltà. Ma la tecnologia è uno strumento oggi diventato necessario. La fase emergenziale ce l'ha trasmesso di di con grande impatto e ce lo trasmetterà anche nel 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 dopo. Eh la tecnologia ha permesso la fase di contatto. Oggi utilizziamo Skype ordinariamente per contattare i clienti sia famiglie sia imprese ma la tecnologia è anche quel canale attraverso il quale riusciamo a fare la nostra attività di consulenza e a formalizzare i contratti. Se penso a pochi mesi fa a meno di due mesi fa io mi recai in un'azienda di Arezzo accompagnando i miei collaboratori di Arezzo per perfezionare un contratto di finanziamento cioè eh evidentemente per salutare l'imprenditore ma nello stesso tempo abbiamo firmato un contratto di di finanziamento. Oggi il contratto di finanziamento può essere siglato online. È ovvio che questo riduce anche molto i tempi di attivazione delle 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 richieste. Non da ultimo anche nel mondo della ricchezza finanziaria insomma della gestione dei propri eh risparmi possiamo utilizzare Skype eh per incontri per offrire il nostro servizio di consulenza ma non solo possiamo utilizzare le app per trasmettere raccomandazioni e ordini che con un digital o un vision possono essere eseguiti immediatamente. Grazie davvero anche per queste riflessioni a Cristian Fumagali direttore della macro area toscana Umbria Lazio di Ubi Banca. Buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie e buona fortuna a tutti. Grazie.